Terremoto annunciato nel Pescara dopo i rumors delle ultime ore. Questa mattina è arrivata la conferma ufficiale. Danilo Iannascoli si è dimesso da amministratore delegato, il numero 2 della società Bianca Azzurra e da consigliere del Sodalizio Adriatico, restando come semplice socio alla base della decisione di Sidi con il presidente Daniele Sebastiani. Domani sera in programma l'assemblea dei soci a cui Danilo Iannascoli non parteciperà. All'ordine del giorno ci sarà l'approvazione del bilancio al 30 giugno del 2015. Iannascoli da diverse settimane si era volutamente defilato non seguendo più le partite dei Bianca Azzurri sia in casa che in trasferta. Nelle prossime settimane si capirà se le dimissioni da amministratore delegato precluderanno ad un'uscita di scena definitiva di Iannascoli o se come sembrerebbe il tutto sia finalizzato al rilancio con un'offerta per rilevare l'intero pacchetto azionario del Pescara. Come noto Danilo Iannascoli è anche patron del Pescara Calcio a 5, squadra campione d'Italia in carica.